Sei mai stato in Brasile? Improvvisamente una sorella. Ma che fai qua? Ma che ci fai te qua? Sua madre ha fatto così tanto per me. Fratello. Mi piacerebbe davvero fare anch'io qualcosa per te. Più facile a dirsi che a farsi. Bravo. Grazie. Perché? 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 Si ducere. È arrivato il momento di credere. Leonardo Pieraccioni. Finalmente la felicità. Lunedì in prima serata Canale 5.